Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati qui su Litra Technology in un nuovissimo video recensione. Oggi andremo a recensire un nuovo prodotto che riguarda la sicurezza della vostra casa. Una nuova telecamera sempre di casa, noi l'abbiamo già vista e vi lascio all'interno delle schede il link per vedere il vecchio video. E oggi andremo a vedere la sorella maggiore, il modello PTZ motorizzato a 360 gradi dal valore di 40 euro. E' una telecamera motorizzata in full HD che oltre ad essere di una buona qualità ha anche il tracking, quindi se vede un movimento inizia a seguire il movimento e quindi a girarsi. E' una telecamera full HD, dà un'ottima qualità e che funziona tranquillamente collegandola al nostro wifi. Una telecamera quindi con audio bidirezionale, con la possibilità di poter andare a vedere delle registrazioni su microSD dove possiamo anche attivare un minimo di anti-intrusione, cioè che nel caso in cui la telecamera dovesse vedere un movimento fa partire la registrazione o l'invio di notifiche di rilevato movimento. L'applicazione Nuyecam è un'applicazione molto semplice da dover gestire. Una volta che avete creato l'account vi basta semplicemente andare con il tasto più ad aggiungere una nuova telecamera e andare a seguire passo passo la procedura. Quindi rispetto al vecchio modello che abbiamo visto sicuramente miglioriamo di qualità perché parliamo di una telecamera in full HD con la possibilità di vedere a un'angolazione anche molto elevata con la possibilità di andare a gestire l'audio comunque bidirezionale. Quindi posso andare ad ascoltare quello che c'è dall'altro lato, chi sta parlando dall'altro lato o posso anche andare a parlare. Prova. Proprio come l'altro modello posso effettuare degli scatti fotografici, dei video live di quello che sto vedendo oltre che andare in base alle date a vedere le registrazioni. Registrazioni che a sua volta posso sempre andare a effettuare foto o screenshot video di quello che sta succedendo. La motorizzazione oltre che essere manuale lo posso effettuare anche tramite swipe direttamente sull'immagine posso andare a spostare la telecamera direttamente andando a fare lo swipe. Non è molto veloce, devo dire la verità, è una reattività abbastanza lenta nel spostarsi come ad esempio in questo momento non si sta spostando, ecco, si è appena spostata però al di là di questo sicuramente migliora la qualità sotto a punto di vista oltre che dell'angolazione della telecamera, della risoluzione della telecamera ma migliora soprattutto sotto a punto di vista di essere motorizzata e quindi con l'auto tracking di andare a seguire il movimento. Molto spesso la troviamo in offerta a 40 euro. Vi lascio tutti i link in descrizione ragazzi. Se non siete iscritti vi invito a iscrivervi a questo canale, a lasciare tanti mi piace e soprattutto a cliccare sulla campanellina per continuare a vedere prossimi video di questo genere su questo canale. Noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti ragazzi da Elytra Technology. Ciao a tutti. Grazie a tutti.